Il No Porcellum Day ha innanzitutto, dal mio punto di vista, una ragione. È da qualche semestre, da qualche anno, che tutte le forze politiche dicono no al Porcellum, cambiamo il Porcellum. Credo che a questo punto sia una questione di degnità, di autorevolezza e di credibilità. Bisogna cambiare la legge elettorale. La mia posizione e la posizione di scelta civica è che bisogna farlo con un po' di coraggio, che non basta solo correggere il Porcellum per avere una roba simile, un po' meno peggio. Bisogna avere un po' più di coraggio e fare una riforma vera, che si basi su collegi e che preveda comunque una democrazia competitiva. Poi i collegi possono essere uninominali o plurinominali, ma deve rimanere il principio di una democrazia competitiva, in cui gli elettori non scelgono solo i partiti o le coalizioni e poi si vedrà, ma danno un'indicazione precisa su quale forza o quale coalizione debba governare.